Obiettivo vite è un progetto ideato nel 2016 da edizione l'informatore agrario in collaborazione con Singenta e si è posto in questi anni l'obiettivo di raccontare la situazione fitosanitaria della vite nei differenti areali vitivinicoli italiani. A distanza di cinque anni il progetto quest'anno si evolve cambiando format e diventa un vero e proprio viaggio nel vigneto per seguire la situazione in tre differenti aziende testimonial in altrettanti areali vitivinicoli italiani. Si tratta di una nuova forma di comunicazione tecnica fatta di territori, di persone in cui il viticoltore insieme al tecnico di Singenta ci accompagnerà lungo tutta la stagione con sei video, due per azienda agricola. Parleremo assieme delle nuove formulazioni di Orondis, estremamente efficaci il controllo della peronospora, andremo a valutare assieme Taegro, il nuovo biofungicida per il controllo combinato di oidio e botrite, vedremo anche quelle che sono le nuove strategie postmancozeb senza dimenticare anche le nuove registrazioni, come nel caso di Affirm che da quest'anno otterrà la registrazione definitiva anche per il controllo di tignoli. della rigata. Per tutte queste informazioni e altro ancora seguiteci sul portale dedicato ad Obiettivo BPP.